Si è tenuto lo scorso sabato al Cinema Greenwich di Roma l'incontro Cinema e Territorio, presenti numerose associazioni di cultura cinematografica di Roma e del Lazio riunite nella rete Cinema Indipendente. Al centro dell'evento proposte essenziali per la promozione di una cultura audiovisiva più diffusa e consapevole. Una prima tappa di un percorso incentrato su una programmazione condivisa fra soggetti culturali e istituzionali e su una nuova gestione delle risorse pubbliche fondata su trasparenza, competenza e autonomia. Sette i temi di confronto. Ripensamento della legge regionale sul cinema e l'audiovisivo, formazione per pubblico, artisti e nuove figure professionali, rilancio dei cinema di quartiere, sostegno alla produzione indipendente di nuovi linguaggi, circuiti di distribuzione nelle sale, in concorso con territorio, scuole e università e ancora valorizzazione dei festival regionali e dialogo costante con le istituzioni tramite una cabina di regia intelligente e tavoli consultivi. Sul palco anche Nicola Zingaretti, candidato presidente della Regione Lazio, che ha indicato come sua priorità la formazione di reti di creazione e scambi permanenti, affinché attraverso la partecipazione degli attori culturali nella preparazione dell'atto legislativo si determini il necessario rapporto virtuoso fra società e istituzioni.